ciao bambini allora oggi scienze prendete il libro allora il nostro libro a pagina ve lo dico 60 oggi parliamo dei mammiferi allora i mammiferi sono il gruppo di animali di vertebrati al quale apparteniamo anche noi vivono in ogni ambiente del pianeta e sia in acqua che sulla terra alcuni possono volare come i pipistrelli i pipistrelli sono dei mammiferi sono tutti vivipari cosa vuol dire che hanno fanno i cuccioli i cuccioli si sviluppano all'interno della pancia della madre ci sono però dei casi rarissimi in cui abbiamo dei mammiferi che sono ovipari sono le chidna e l'ornitorinco ok l'ornitorinco è questo guardate che carino è troppo carino le chidna è questa qua ok guardatela un po queste le chidna è un mammifero oviparo strano è allora i piccoli abbiamo detto si sviluppano nel corpo della mamma quando nascono sono già formati ma hanno bisogno di un nutrimento necessario il latte della mamma che viene prodotto dalle mammelle della loro mamma ecco perché si chiamano mammiferi perché il latte viene prodotto dalle mammelle poi abbiamo i marsupiali che sono i canguro e i koala che tengono i piccoli ne hanno una sacca dentro dentro una sacca sì una speciale sacca che hanno finché non sono sviluppati completamente cosa importantissima che hanno in comune tutti i mammiferi respirano attraverso i polmoni aspettate un attimo che controllo che la registrazione vada benissimo ok perfetto tutti i mammiferi respirano attraverso i polmoni ok anche quelli marini come le balene le orche e i delfini infatti escono a prendere aria hanno la pelle ricoperta di peli mammiferi per mantenere e costante la temperatura interna infatti sono omeotermi ok invece quelli marini non hanno i peli ovviamente ma hanno degli spessi strati di grasso molti mammiferi alcuni mammiferi sono carnivori però i coccodrilli bambini non sono mammiferi ok i coccodrilli non lo sono i lupi e i leoni sono mammiferi carnivori poi alcuni mammiferi sono erbivori come la giraffa la mucca l'antilope alcuni sono onnivori cioè che mangiano di tutto come noi anche noi no siamo onnivori mangiamo un po di tutto quindi le cose importanti i mammiferi sono tutti vivipari a parte alcuni casi particolari che sono ovipari il latte è prodotto dalle mammelle ecco perché si chiamano mammiferi abbiamo i marsupiali tutti i mammiferi respirano attraverso i polmoni anche quelli che vivono in acqua hanno la pelle ricoperta di peli per mantenere costante la temperatura infatti sono omeotermi i mammiferi possono essere carnivori cioè mangiano solo carne erbivori cioè mangiano solo erba onnivori che cioè che mangiano sia vegetali che animali va bene ora facciamo questo esercizio osserva le fotografie rispondi i mammiferi sono erbivori carnivori onnivori mi dovete scrivere qui sotto cosa sono il coccodrillo non lo è qui c'è proprio un errore del libro bambini mannaggia proprio un errore del libro poi abbiamo due colora le caratteristiche comuni a tutti i mammiferi cioè dovete colorare dello stesso colore le caratteristiche che sono comuni di tutti i mammiferi ok mi raccomando cioè tutti i mammiferi respirano con le branchie sono eterotermi respirano con i polmoni dovete colorarmele uguale 4 bisogna mettere in ordine le diverse fasi del ciclo dell'uomo e poi esporre ad alta voce qui dal il feto bambini è il bimbo qualche non è ancora bambino ok che si sta sviluppando nella pancia della mamma vi dovete mettere in ordine questi e spiegarlo a voce nel 5 osserva il grafico e rispondi guardate un milione di insetti 32 mila 900 pesci 7.450 anfibi e così avanti ci sono delle domande dovete rispondere a queste domande scrivermi la risposta qui sul libro qui sul libro l'ultima per ogni specie fai tre esempi di animali potete scrivermi gli animali qui sopra cioè mi dovete scrivere tre specie di insetti tre di pesci tre di anfibi di rettili di uccelli e di mammiferi vi potete aiutare bambini se vi fa piacere con l'atlante quel libro bello che vi piace qui c'è una mappa bellissima sia degli invertebrati guardate che bella sia dei vertebrati per esempio in questa mappa è molto chiara tutti gli animali vertebrati possono essere eterotermi omeotermi gli eterotermi sono pesci gli anfibi e i rettili gli omeotermi sono gli uccelli e i mammiferi poi qui vi parla dei vertebrati più grandi gli animali che fanno il salto più lungo gli animali che hanno vissuto di più gli animali che migrano e poi ci sono delle notizie interessanti sull'ornitorinco che è quel mammifero che vi ho fatto vedere prima carinissimo e sulla balenottera azzurra ok quindi mi dovete fare questo compito con la foto e mandarmelo entro giovedì 4 giugno aspettate che esatto 4 giugno mi raccomando mi raccomando bambini teniamo duro siamo alla fine perché dobbiamo finire ok fate i compiti e studiate va bene vi mando un grossissimo bacio e ci sentiamo presto baci